Dopo due mesi di teoria affrontati prima del lockdown, i volontari di protezione civile dei gruppi di Fano e Pesero hanno sostenuto l'esame di logistica al Codma di Rosciano. Sabato scorso, dalle prime ore del mattino, si sono ritrovati nell'area in cui ha la sede il CB Club Mattei. Obiettivo montare e smontare per più volte quattro tipologie di tende per essere sempre pronti e preparati durante qualsiasi tipo di emergenza, dai terremoti agli alluvioni. A coordinare le operazioni il presidente Saverio Livi. Stiamo dando la parte pratica, quindi i volontari stanno montando una vecchia PI 88 che è una tenda che ha 40 anni, una nuova tenda autostabile che è di nuova generazione da qualche anno, una tenda pneumatica e quindi vedono la differenza fra le varie tende. Quindi quando si troveranno sul posto conoscono tutte e tre le tende. Poi alla fine otteneranno una qualifica in pratica di logista. Ma c'era anche una quarta tenda da montare, o meglio un container donato dal titolare dell'azienda C-Engineering. L'imprenditore fanese ha infatti deciso di sostenere il CB Club Mattei mettendo a disposizione la sua esperienza e i materiali della ditta che opera nel settore delle costruzioni. La loro attività commerciale si sviluppa in tutto il mondo. Alle mie spalle ci sono gli operai di questa ditta che stanno facendo un prototipo per poter sostituire la tenda. Cosa vuol dire sostituire? Le funzioni sono quelle, serve solo per dormire, ma l'impianto è già all'interno, la ricondizionata del riscaldamento e raffreddamento è già all'interno. Quindi è una tenda che in realtà non bisogna scappare quando arriva il freddo, ma ci può stare ancora di più fino a che non si trova una sistemazione. E' una cosa che è nata, che si era in testa e Angelo il titolare ha detto beh ci lavoro sopra, lo fa per passione e quindi vedrete che è una bella cosa. Ma non solo perché il signor Angelo Candiracci che è venuto personalmente al CODMA per seguire le fasi di montaggio, nelle scorse settimane ha ben pensato di fornire alla protezione civile questa casetta di 100 metri quadri. Formata da pannelli ad incastro è stata completata in cinque giorni e rimarrà qui per qualche mese, fino alla scadenza dell'autorizzazione ottenuta dalla Regione. La messa a disposizione della nostra associazione sia per la formazione ma anche per le scuole, ma anche chi deve fare dopo scuola, e qui poi la vedrete, è a disposizione perché tra l'altro l'ha anche decorata all'esterno, è diventata un qualcosa di bello, speriamo che ce la facciano tenere il più possibile, qui all'interno del CODMA e serve appunto per chi ne ha la necessità anche, in realtà è un'aula scolastica ma dentro si presta tante cose.